Sabato 25 al Teatro Regina Margherita di Caltanissette andata a scena Melos Kuros di Sicilia. Uno spettacolo ambientato al tempo della Sicilia greca che anche grazie al dialetto siciliano è riuscito a raccontare una Sicilia da altri tempi e la storia di un giovane siciliano che non solo ha sfidato il potere ma addirittura è riuscito a vincerlo anche grazie all'insorgere popolare in sua difesa. Un viaggio ricco di avventura, personaggi, luoghi e parole in una corsa contro il tempo che ha permesso di vedere in scena anche l'immagine e il pensiero del filosofo Platone. Grazie all'egregia capacità oratoria e interpretativa dell'attore, autore e regista Gaspare Balsamo e le illustrazioni di Alfredo Cuglielmino il buon pubblico presente ha mostrato una notevole attenzione che ha consentito ancor più di apprezzare il racconto ricco di cenni storici e valori come l'amicizia, giustizia, onestà e coraggio. Qualcosa di siciliano io direi è anche qualcosa di mediterraneo perché è uno spettacolo i cui contenuti affondano le radici nella matrice culturale siciliana ma anche mediterranea sia per quanto riguarda i linguaggi usati in scena, quelli della narrazione epica, del punto e sia anche per i contenuti. È una storia ambientata nel III secolo a.C. c'è la Sicilia e Siciliota, c'è la Magna Grecia, c'è la cultura appunto della Grecia, proprio quella classica arcaica, ci sono i tiranni a Siracusa, c'è Platone e quindi direi proprio quella matrice lì che ci piace tanto raccontare.